Arrestato per tentato omicidio dai carabinieri, l'autore dell'accoltellamento fra via Diaz e via dell'Orologio del 30 settembre scorso. Si tratta di un sedicenne tunisino ospite da alcuni mesi in una comunità per minori di Trieste. Ad avere la peggio era stato un giovane di nazionalità macedone residente a Monfalcone. L'uomo, ora fuori pericolo, stava acquistando delle sigarette a un distributore automatico assieme ad alcuni amici. fu circondato e aggredito da un gruppo di almeno cinque ragazzi con il pretesto di chiudere i conti su un diverbio tra le due compagnie di giovani avvenuto in un locale del centro alcune ore prima. Uno degli aggressori è passato dunque alle vie di fatto accoltellando ripetutamente alla schiena il ragazzo macedone che immediatamente dopo l'arrivo della pattuglia veniva trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara. Uno dei fendenti aveva interessato un polmone. Le immagini del circuito di sorveglianza hanno permesso di rintracciare il minorenne tunisino nella comunità per minori che lo ospitava a Trieste. Il ragazzo, dopo la disposizione della custodia cautelare da parte del GIP del Tribunale dei Minori di Trieste, è stato trasferito all'Istituto Penale Minorile di Treviso.